Alla Sardegna Arena, l'Inter sempre senza i cardi, sfida il Cagliari, conta i passi Cigarini, il suo cross in mezzo, il colpo di testa e il pallone in rete, il colpo di testa di Ceppitelli, Cagliari 1, Inter 0, Politano per Nainggolan, prova a girarsi la cross, primo pallo, il colpo di testa e il pareggio dell'Inter ha colpito Lautaro Martinez, trova l'1-1 in un momento difficilissimo. Possibilità di un altro cross, Pavoletti, un gol meraviglioso di Pavoletti, scrive, fischia tre volte Banti, il Cagliari, batte l'Inter 2 a 1.